La carica dei 55.000 spettatori ha già invaso Lucca, dove da mesi si attende il concertone dei Rolly Stones, evento planetario che ha consacrato la città delle Mura come piazza internazionale della musica, ma ha portato benefici anche in Versilia in termini di presenze e pernottamenti. I migliaia, infatti, hanno scelto di dormire nei tanti hotel, bed and breakfast e camping della costa, da Torre del Lago fino a Lido di Camaiore, dove si viaggia tra l'80% di booking e il sold out. Sicuramente sì, quella che ha maggiormente beneficiato di questo evento è la città di Viareggio, perché è quella a minor distanza da Lucca, quindi molte strutture ricettive hanno visto quelle più piccole, il sold out, per il resto ci attestiamo su una media occupazionale dell'80%. Ha riempito gli alberghi e chiaramente forma movimento. Sono venuti persone da fuori, ma fuori intendo dire anche dall'estero, sempre per venere questi Rolling Stone. Io ho un'attività turistica, non ci sono solo italiani dalle prenotazioni, ma ci sono svizzeri, austriaci. Un bel colpo di coda per l'economia turistica versiliese in un periodo ormai di bassa stagione e alla fine di un mese di settembre magro, che al contrario dell'alta stagione, baciata dal sole e dal caldo, ha registrato piogge e scarsa affluenza. È la conferma che i grandi e grandissimi eventi, anche a distanza, aiutano. Il sogno degli operatori del turismo, portare concerti simili anche a Bussola Domani o alla cittadella del Carnevale. Noi sicuramente riteniamo che la sinergia con queste grandi strutture come il Carnevale, la Bussola Domani, il Puciniano stesso, siano veramente importanti per una ricaduta positiva economica sul territorio. Luca Comics riempie per 3-4 giorni tutti gli alberghi nella zona e sono eventi importantissimi per il turismo.